A maggio in una tv locale denuncio il sistema del finanziamento pubblico dei partiti. Ci sono dei partiti che non hanno più i rappresentanti nel Parlamento e per questa legge continuano a percepire i soldi fino al 2011 e non ci sono. E lei dice, ah certo non è una bella cosa e quindi, quindi già è grave, in aggiunta e ci sono dei partiti che non esistono più, cioè non ci sono più, c'è Forza Italia, non c'è più, Alleanza Nazionale, non c'è più, IDS, non ci sono più, La Margherita, non ci sono più. Alle assemblee nazionali di questi partiti tutti hanno votato alzando la mano, dicendo, manifestando in modo univoco e non equivoco, noi estinguiamo, noi chiudiamo questo partito. Questi signori, queste segreterie dei partiti percepiscono ancora i soldi.